Giovanni da Capestrano nacque nel 1386 a Capestrano, Aquila. Fu un eccezionale prete, religioso, apostolo, guerriero e diplomatico, il cui impegno incorollabile nella promozione della fede, la pace e la giustizia lo rende degno di essere annoverato fra i più grandi uomini della storia. Possiamo chiedere al Santo ispirazione per vivere una vita di fede profonda, umiltà e dedizione, come Lui fece. Aiuto nell'instaurare la pace e la riconciliazione tra le persone e le comunità, come fece durante la sua vita. La forza di combattere contro l'ingiustizia e la diffusione dell'errore, proprio come Giovanni combatté contro le eresie e le sette durante il suo ministero. O San Giovanni da Capestrano, concedi a noi tutti che recitiamo qui oggi questa preghiera, assistenza nella promozione dell'amore per Gesù e la Vergine Maria, così come tu propagasti con zelo queste devozioni. Prima di iniziare, ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente, con grazie dal profondo del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Giovanni, uomo di Dio e della Chiesa, animatore di schiere audaci, noi, cappellani militari delle forze armate di terra, di cielo e di mare, ti preghiamo con lo stesso ardore che tu avesti quando invocavi il Signore nel guidare i tuoi uomini alla salvaguardia della cristiana civiltà. Anche noi, per dovere sacro a Dio e alla Patria, siamo chiamati a sostenere le nuove generazioni nella ricerca e nella difesa dei supremi valori della giustizia e della pace. Insegnaci ad amare i nostri soldati come tu li amavi, a sentirli vicini più che fratelli e a capirli nelle loro aspirazioni umane e spirituali. aiutaci a portare nel cuore delle nostre unità la stessa passione di fede e di integrità della nostra testimonianza. Questo ci chiedono i nostri uomini d'arme e questo dobbiamo porgere loro. A te, perciò, o Celeste, nostro Patrono, noi ricorriamo. Da te, o Apostolo Serafico, noi impetriamo e per i tuoi meriti aspettiamo i doni dello Spirito. Amen Se ti chiami Giovanni o Giovanna tantissimi auguri e poiché è il Patrono di Capestrano e il Protettore dei Cappellani Militari e dei Giuristi tantissimi auguri anche a voi e che Dio vi benedica tutti. Grazie a tutti